E siamo con Gianluca Civoletta, capitano, questo Cipitile 0-0, un Cipitile come lo scriverò nei siti sul giornale, si confirma squadra dignosa di categoria, una bella partita, Gianluca con la tua analisi al termine di questo 0-0 strappato all'Ortese. Tutto sommato credo sia un risultato più che positivo, eravamo venuti qua con la solita mentalità che è quella di giocarcela con tutti, ma le pretese non erano delle migliori in quanto affrontavamo una squadra che è lotta per il campionato e che abbiamo avuto modo di apprezzarla già nel giro d'andata, che secondo noi era una delle pretendenti più favorita al titolo. Gli obiettivi vostri nel 2014 c'è una salvezza tranquilla? Gli obiettivi societari non sono molto pretenziosi, noi cerchiamo di migliorare l'ottavo posto dell'anno scorso, poi naturalmente se riusciamo a fare un girone di ritorno all'altezza penso che possiamo provare anche a strappare qualcosa in più.